E' una questione di priorità, porterei solo questo ragionamento, in questo momento il Paese ha bisogno di lavoro, in questo momento il Paese ha bisogno di certezze e che cosa si va a fare invece? Una modifica costituzionale che sta passando nel cono d'ombra rispetto ai problemi dei cittadini e dall'altra parte si cambiano le regole che danno la cittadinanza, giusto proprio per arrotondare a un milione in più i voti che prenderà il PD o che vorrebbero prendere. Questa però è secondo noi defragrante perché si dà proprio l'idea di una priorità sfasata sul problema del Paese, lo U-Soli che cos'è? Dire ai cittadini che sono già qui dopo un percorso di inserimento di enti cittadini? No, semplicemente significa far diventare l'Italia la sala parte del Mediterraneo, punto, per entrare in Europa.